Buon sabato, in questo momento sono le 8 e 9, buon inizio, buon weekend, però ringraziamo qui il peschereccio perché sicuramente si tratta di un peschereccio che puntualmente, forse anche più di uno, puntualmente fa uscire il carburante, il gasolio probabilmente dalla pompa di santina eccetera e puntualmente il canale viene inquinato. Queste sono le immagini che ci hanno appena capitato del canale San Domenico Esterno, è uno schifo e speriamo che prima o poi la Capione Porto riesca a beccare in fragante chi fa queste cose e, scusatemi il termine, li possa veramente sodomizzare perché questa gente va sodomizzata con multe spettacolari perché non è possibile che praticamente ogni settimana, una settimana sì, una settimana no, se non un giorno sì, un giorno no ci sia questa forma di inquinamento.